Andranno avanti per tutta la giornata di oggi i lavori di abbattimento e di bonifica all'interno dell'oramai ex granghetto di Rignano Garganico, andato in parte distrutto in un incendio scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì. Nel rogo hanno perso la vita due migranti di 33 e 36 anni, Mamadou Conate e Nou Dumbia, entrambi fuggiti dal Mali. Ad identificarli erano stati altri extracomunitari del ghetto che hanno riferito i loro nomi alle forze dell'ordine. Il primo è stato trovato disteso su di una brandina carbonizzato, il secondo vicino all'uscita della struttura in legno dove dormiva. È probabile che l'uomo si sia accorto delle fiamme e abbia cercato di mettersi in salvo, ma senza successo. Le fiamme, che si sono estese su una superficie di circa 5.000 metri quadri, potrebbero essere state originate da una stufa o da un fornello lasciati accesi per via delle basse temperature. Le bombole di gas presenti nelle baracche avrebbero fatto il resto. La procura di Foggia ha aperto un'inchiesta per i reati di incendio colposo ed omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Il posto ospitava più di 350 immigrati impegnati nella raccolta di prodotti agricole nelle campagne del Foggiano. Da due giorni nel campo erano cominciate le operazioni di sgombero a seguito di un ordine della prefettura dopo che la direzione distrettuale antimafia di Bari ne aveva revocato la facoltà d'uso per presunte infiltrazioni della criminalità. Cerca 200 ospiti si erano però rifiutati di lasciare la Bidonville e il primo marzo scorso avevano protestato davanti alla sede della prefettura. Ieri sera, al termine dello sgombero, i migranti sono stati trasferiti in due diverse strutture e hanno avuto inizio le operazioni di abbattimento delle baracche. I lavori sono stati poi interrotti perché all'interno di alcune di queste erano ancora presenti bombole di gas, ma le ruspe sono tornate in funzione già da questa mattina.